Musica Molti giovani e non vaccinati, ecco la fotografia dei ricoverati per covid negli ospedali di Marche Nord. Il punto con il direttore sanitario Edoardo Berselli che sugli effetti collaterali dichiara registrate 124 segnalazioni su 93.000 vaccini. Ieri uno schianto mortale a Rosciano di Fano e oggi come se nulla fosse la videosegnalazione di un reporter di strada che ha filmato infrazioni di auto e scooter. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore Tonelli, l'incidente è soltanto l'apice di una lunga serie di errori commessi per la sua incapacità. Per il processo chiede il gratuito patrocinio a spese dello Stato ma aveva occultato al fisco 500.000 euro, quarantene di Urbino denunciato dalla finanza. Maxi Rissa al mio di Marotta, il sindaco Barbieri firma un'ordinanza che limita l'orario di apertura del locale. La società fa sapere chiudiamo l'attività e riapriamo d'ottobre. Gioca un euro e ne vince un milione. A Pian di Rose c'è un neopaperone che ha indovinato i cinque numeri dell'otto. A Fanno prende il via il Brodetto Fest, domani pomeriggio il taglio del nastro sul palco della Cave a Lido, mentre a Pesaro è tutto pronto per la fiera di San Nicola, pianificati servizi di controllo e verifiche a campione sul possesso del Green Pass. Buonasera, bentornati sul canale 17 di Fanno TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano la sanità con l'intervista che abbiamo realizzato al direttore sanitario di Marche Nord. Edoardo Berselli ha fatto il punto sulle persone ricoverate per Covid. La maggior parte dei pazienti è giovane e non vaccinata. Sono 25 le persone attualmente ricoverate per coronavirus negli ospedali dell'azienda Marche Nord. 11 si trovano in terapia intensiva, 8 in semi-intensiva e 6 nei reparti non intensivi. Di questi un paziente aveva ricevuto una dose di vaccino in 4, tutti over 80, avevano concluso il ciclo vaccinale, mentre i restanti non si erano sottoposti alla profilassi. Dimostra quello che comunque la letteratura ci sta dicendo a livello mondiale, che la vaccinazione protegge, però purtroppo il vaccino non dà mai una protezione del 100% perché ogni individuo, e la medicina è così, non è una scienza esatta, ma è una scienza che si fa sui grandi numeri perché ogni organismo reagisce in maniera diversa e ce lo dimostra e siamo perfettamente in linea con i dati nazionali e con i dati internazionali. Per quanto riguarda le fasce di età, ha precisato Berselli, i degenti vaccinati sono anziani, mentre i non vaccinati sono più giovani, tra loro anche due persone di 41 e 43 anni. Al direttore poi abbiamo chiesto informazioni sul rapporto rischi e benefici e sui casi registrati di effetti collaterali, anche alla luce della miocardite che ha colpito Alessandro Baldini, DJ di Mondolfo, ricoverato a Santa Croce di Fano dopo aver ricevuto sabato scorso la seconda dose di Moderna. Innanzitutto la notizia positiva che è completamente migliorato, quindi il miglioramento è stato immediato e totale alla prima terapia, quindi la prognosi è buonissima e non ci saranno problemi. Il discorso è che come in tutte le vaccinazioni i rischi e i benefici ci sono sempre, l'importante è che ci sia uno sbilanciamento molto elevato dei benefici verso i rischi. Questo è un evento avverso statisticamente atteso, non è il primo che viene registrato a livello mondiale. Se vogliamo giocarcela sui numeri, noi raccogliamo anche le segnalazioni avverse dei pazienti che arrivano al pronto soccorso come reazioni avverse, sono maggiori rispetto a quelli che sono stati vaccinati solo nel nostro centro vaccinale ospedaliero. Noi come centro vaccinale ospedaliero a oggi abbiamo fatto circa 93.000 vaccinazioni, in totale le segnalazioni di eventi sono state 124. Matematicamente è una cosa che vuol dire che è lo 0,1%, e già questo ci va a dire. L'altro discorso che dobbiamo dire è che non tutte queste 124 reazioni sono reazioni importanti. Reazioni importanti intendo la febbre importante, la linfadenopatia, la miocardite che si può sviluppare, queste sono molto più rare. La maggiore parte delle segnalazioni sono reazioni lievi, dove abbiamo la febbre, il dolore all'articolazione e cose di questo tipo. Quindi in realtà, e torno a dire, la statistica in questo caso funziona, è esattamente la stessa percentuale riportata a livello nazionale e mondiale. E sale a 209 il totale di positivi al Covid rilevati nelle Marche. Nelle ultime 24 ore le province più colpite sono quelle di Macerata, con 61 contagi, Pesaro Urbino con 52. Oggi non sono stati registrati i decessi legati al virus, ma sale il numero di persone ricoverate. In terapia intensiva ci sono tre pazienti in più, mentre in quella semi-intensiva c'è un degente in più rispetto a ieri. E ci spostiamo a Senegallia, dove questa mattina c'è stato un grave investimento. È successo intorno alle ore 9 in Viale dei Pini. Secondo i primi rilievi, pare che una donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto l'ha travolta. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno allertato l'eliambulanza, la quale ha trasportato la ferita in codice rosso al torrette di Ancona, sul posto la polizia locale. Invece a Montelabate, un centauro sulla Trentina, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto tra un'auto e la moto da lui condotta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto insieme al 118 e all'eliambulanza che ha trasportato il giovane al torrette di Ancona. Torniamo a parlare invece dell'incidente tra auto e scuterone avvenuto ieri a Rosciano di Fano, in cui ha perso la vita il 57enne Alessandro Minardi, di cui ancora non sono stati fissati i funerali. Dopo questa tragedia, oggi, pensate, c'è arrivato un video girato da un nostro telespettatore che mostra diverse infrazioni commesse da conducenti di auto e scooter nello stesso sparti traffico e come se nulla fosse accaduto. In 10 minuti, 4 infrazioni simili a quella di ieri che ha causato il decesso di una persona. A volte no, sembra una cosa stupida, una piccola cosa, invece non è una piccola cosa perché è morta una persona. Non è una piccola cosa, ragazzi. La vostra stupidità non è una piccola cosa, la vostra stupidità incide sulla vita degli altri. Ora, l'assessore ha annunciato che a fine, entro l'anno, dovrebbero iniziare i lavori, si dovrebbero appaltare i lavori per la rotatoria e dopodiché inizieranno i lavori stessi. A mio avviso, se il ritmo delle infrazioni che vengono commesse è questo, cioè 4-5 ogni quarto d'ora, forse da qui alla fine dell'anno è il caso di porre un rimedio temporaneo, non lo so, mettendo un guardrail al centro della strada, piuttosto che un New Jersey di cemento e non le bandierine di gomma, perché ragazzi, con la stupidità della gente, la gomma non funziona. Adesso vediamo la 3, beh, la Vespa... No, lui può, lui può, ragazzi, la Vespa... Eccone un'altra qua. Secondo me, da qui a fine anno, con questo ritmo, è il caso comunque di trovare un altro rimedio, tipo un New Jersey di cemento, piuttosto che... Perché la gente è questo, ragazzi, la gente è stupida, la gente non capisce le regole scritte sulla carta, la gente capisce i muri, gli dovete mettere il muro, guardate, quello della 3 è stato mezz'ora fermo lì per fare inversione, cioè questo è un deficiente, questo è un deficiente al quale va presa la targa e gli va detto, lei è un deficiente, adesso cosa vorrà fare? Guardatelo, guardatelo. Gli dobbiamo fare i complimenti quasi, dovremmo fermare, guardate, passa davanti, telefono, sta al telefono anche, il deficiente. Un appello, Assessore, Sindaco, fate qualcosa, salvateci da questi deficienti, eccone un altro. Cioè è morta una persona ieri, cazzo, è morta una persona ieri, salvateci da questi deficienti. E come ha ricordato anche il telespettatore, lì si attende da anni una rotatoria e oggi Fratelli d'Italia va all'attacco e chiede le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici Fabio Lattonelli per incapacità e mancanza di serietà. Sentite. Cronaca di una morte annunciata, avete scritto nel comunicato stampa, parlando anche di una gravità inaudita. Sì, assolutamente. Quanto ho corso ieri è di una gravità inaudita, esattamente, perché è l'apice di tutta una serie di eventi, di episodi che hanno interessato la nostra città, penso anche a Ponte Sasso, oltre a quello che è accaduto appunto ieri, e non solo, che denotano assolutamente un'incapacità nella gestione della sicurezza, della viabilità e che per l'effetto della quale abbiamo chiesto infatti le dimissioni dell'assessore. Non si può assolutamente soprassedere sulla sicurezza che peraltro molto spesso è stata denunciata dalla maggior parte dei cittadini che segnalavano e segnalano tuttora importanti pericoli che si riferiscono, diciamo, a parecchie zone della nostra città. Per quanto riguarda Rochelle, Tarsi, tanti cittadini, ma anche voi di Fratelli d'Italia, avete chiesto una rotatoria? Guardi, siamo oggi addolorati, siamo prostrati, siamo delusi da questa amministrazione perché nel corso di questi anni abbiamo cercato in tutti i modi, dai banchi del Consiglio Comunale, ma soprattutto dalle relazioni personali, di cercare di stimolare l'assessore a prendere consapevolezza della criticità. Ci sono cittadini di Rochano che in questi anni si sono dati da fare, mese dopo mese, l'hanno chiamata, l'hanno sollecitata. Le risposte sono sempre state vaghe. Faremo, vedremo, abbiamo intenzione di, il progetto è quasi pronto. Allora, io dico che se è vero che i cittadini in qualche modo devono rispettare le regole, è chiaro, ma ai cittadini bisogna dare la possibilità di rispettarle queste regole, dobbiamo metterli nella condizione di rispettare le regole. E questa morte, questa cosa dolorosissima poteva essere evitata e non è stata evitata, perché c'è qualcuno che continua in maniera estremamente superficiale a non ascoltare i cittadini. Chi vive in quel quartiere sa bene quali sono le criticità. Ci sono lì, ci sono in altri punti del quartiere, ci sono per esempio su Via Flaminia e si continua a far passare i giorni nella speranza che le cose non succedano. Poi quando accadono si cerca di chiedere scusa, ma mi dispiace, è troppo tardi. Dopo la maxi rissa al Miu Disco Dinner di Marotta, il sindaco del comune di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura anticipata del locale all'una di notte. Il provvedimento, valido da oggi fino al prossimo 10 ottobre, è stato emanato, come si legge nell'ordinanza, per diversi motivi. Intanto al Miu si svolgeva un'attività di discoteca non permessa dalle disposizioni anticontagio. Inoltre, il locale è stato chiuso e sanzionato più volte per aver violato queste norme anti-covid, ad esempio per assembramenti di persone senza mascherina. Si ricordano poi gli episodi di violenza di natura delittuosa, anche a causa del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche, superalcoliche fino a tarda ora. Pericoli, c'è scritto, che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. E d'altra parte, la società Discomiù che gestisce il locale ha pubblicato un post sulla pagina Facebook per comunicare l'annullamento dell'evento che era stato organizzato per domani sera. È rimandato ad ottobre a data da destinarsi, si legge nel post, per effetto dell'ordinanza comunale urgente. Il locale dovrà chiudere a luna e quindi siamo impossibilitati a rendere i servizi che ci contraddistinguono, ragioni per cui il locale riaprirà direttamente a ottobre. Ancora cronaca, richiede il gratuito patrocinio a spese dello Stato ma la Guardia di Finanza scopre che svolgeva in nero un'attività di commercio di auto usate. A finire nei guai è un quarantenne di Urbino che ha occultato al fisco redditi per oltre 500 mila euro. Letizia Marchionni. È stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Urbino il quarantenne del posto che aveva tentato di ottenere indebitamente il gratuito patrocinio a spese dello Stato omettendo di dichiarare nell'istanza presentata redditi derivanti da un'attività imprenditoriale svolta in nero. Dalle indagini partite da una segnalazione del giudice di pace è emerso che l'uomo aveva presentato un'istanza non corrispondente al vero che gli aveva permesso di ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dello Stato. La discordanza tra il reddito dichiarato e quello risultante dalle banche dati infatti determinava il superamento del limite per l'ammissione al beneficio. Le indagini svolte dal personale della sezione di polizia giudiziaria della procura di Urbino hanno permesso di far emergere altre anomalie sulle fonti di reddito del quarantenne. L'uomo infatti risultava essersi intestato in poco tempo numerose vetture poco prima che queste auto cessassero la circolazione in Italia per avvenuta esportazione generando negli inquirenti il sospetto che l'indagato potesse svolgere in nero un'attività di commercio di autovetture usate. Grazie agli ulteriori accertamenti svolti dalla compagnia della Guardia di Finanza di Urbino il quarantenne è stato qualificato come evasore totale per aver omesso di dichiarare al fisco importi per oltre 500 mila euro. Per i tre giorni della fiera di San Nicola a Pesaro prevista da domani a domenica sono stati pianificati servizi di controllo in coordinamento tra Questura Forze dell'Ordine e Polizia Locale che insieme a Pesaro parcheggi al centro operativo del comune verificheranno che la manifestazione si svolga in sicurezza previsti controlli a campione per accertare che i visitatori siano in possesso del Green Pass inoltre per passeggiare all'interno della fiera sarà necessario indossare la mascherina mantenere il distanziamento e igienizzarsi le mani la Polizia Locale avrà una postazione fissa in Viale Zara all'incrocio con Viale Trieste luogo in cui saranno presenti anche le altre forze di Polizia i Vigili del Fuoco la Croce Rossa la Protezione Civile e il Team che si occupa della sicurezza per Pesaro Parcheggi la sorveglianza sarà dedicata anche all'eventuale presenza di venditori abusivi e al rispetto delle norme sul commercio gioca in un bar tabacchi di Piam di Rose e vince un milione di euro la dia bendata si è fermata nel comune di Sant'Ippolito in provincia di Pesaro Urbino difficile però sapere chi sia il fortunato che ha individuato tutti e cinque i numeri Filippo Pucci ha intervistato la titolare della ricevitoria super vincita nella piccola frazione di Piam di Rose nel comune di Sant'Ippolito all'interno del bar centrale sono stati vinti un milione di euro con il gioco dell'estrazione del Million Day ovvero quello di scegliere cinque numeri differenti con una giocata di un euro in credula la signora Sara Speranzini titolare dell'attività che ora attende il fortunato vincitore è successo che la dipendente mi ha avvisato che con l'estrazione dell'otto e Million Day c'è stata una vincita molto importante un milione di euro quindi quando mi ha avvisato un po' in credula entrambe siamo andate a controllare effettivamente questa vincita c'è con tanto piacere abbiamo notato questa cosa ecco e speriamo che sia più che altro andata in buone mani alla persona più giusta niente a dire la vincita mi diceva è stata scoperta oggi sì oggi guardando il nostro bollettino delle estrazioni e si nota appunto questa vincita novità invece sul fortunato vincitore no no e non sappiamo chi è effettivamente perché ce ne sono diversi tanti giocatori e quindi e non è neanche la prima volta che all'interno di questo bar si vincono grandi somme di denaro sì in passato 8-9 anni fa una vincita di 100.000 euro anche questa è importante però non quanto un milione di euro effettivamente e per il quinto anno consecutivo torna a Fanno la settimana europea della mobilità sostenibile una sfida ad utilizzare mezzi alternativi all'auto per gli spostamenti quotidiani ed un modo per sensibilizzare la città su temi che vanno da abitudini sane come l'attività fisica quotidiana alla salvaguardia dell'ambiente partirà il 16 e terminerà il 22 settembre la settimana europea della mobilità sostenibile un'iniziativa che compie 20 anni ma a cui la città di Fanno aderisce da 5 che coinvolge a comuna migliaia di amministrazioni e milioni di cittadini in tutta Europa dopo un anno di crisi a causa del covid ha spiegato l'assessore Fabiola Tonelli abbiamo toccato con mano quale sia l'importanza dei problemi creati da smog e traffico per questo motivo il tema scelto a livello europeo per quest'anno è muoviti sostenibile ed in salute anche noi toccheremo queste tematiche con degli eventi durante questa settimana e li vado a citare giovedì 16 dalle 7.30 alle 10.30 aderiamo al Giretto d'Italia di Lega Ambiente conteremo il flusso di biciclette in alcuni punti del centro storico come già siamo abituati a vedere altri anni sabato 18 insieme a FIAB Forbici Fano organizziamo una pedalata allegra quindi un circuito di un'ora e in piazza 20 Settembre dalle 18.30 ci sarà uno stand per il ciclista illuminato quindi centrato sulla sicurezza del ciclista che deve farsi vedere durante la sera e la notte lunedì 20 invece è molto importante è il primo incontro di presentazione del piano urbano della mobilità sostenibile presenteremo i dati sarà un incontro aperto alla città di Danza alla sala Epogea alle ore 18 a quest'anno ancora di più rispetto all'anno scorso vogliamo appunto che le persone riflettano sulle scelte di mobilità alternative a quella dell'automobile domenica 19 alle ore 10 in piazza 20 Settembre a Fano inoltre è in programma un importante appuntamento realizzato in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità dopo uno stop di oltre di un anno e mezzo Fano cammina riparte un appuntamento dedicato alla promozione della salute che nasce come un progetto per la salute delle donne ma ormai nel tempo dal 2017 ad oggi è diventato un appuntamento fisso una camminata fissa tutti i mercoledì dalle 20 e 30 alle 21 e 30 per le donne ma per tutta la città aperto a tutta la cittadinanza è un appuntamento gratuito e libero che durante tutto l'anno riprenderà quindi tutti i mercoledì ci sarà Fano cammina ma la ripartenza sarà proprio domenica mattina in occasione della settimana della mobilità sostenibile quindi vi invitiamo a iscrivervi per un circuito ad anello di un'ora un percorso in piano che parte da piazza 20 Settembre e girerà insomma fino al mare per ritornare poi in piazza 20 Settembre e chi si iscriverà e parteciperà alla camminata avrà in omaggio lo zenetto di Fano cammina una tappa significativa di un percorso lungo che stiamo intraprendendo con la stessa velocità della fibra a dirlo è il vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni assessore alla digitalizzazione che ha partecipato alla conferenza stampa di Serravalle di Carda per l'arrivo della banda ultralarga ad Apecchio in provincia di Pesero Urbino oltre 1300 unità immobiliari del comune sono state cablate con questa nuova tecnologia la fibra ottica entrerà direttamente nelle case nelle scuole nelle aziende e negli uffici pubblici che la richiederanno la copertura è stata garantita sia sul capoluogo di Apecchio sia nelle località di Serravalle di Carda Valdarei Colombara adesso spazio le vostre segnalazioni ancora un nostro reporter di strada ci ha inviato foto e video di pezzi di intonaco che si sono staccati dal soffitto del cimitero di Rochano a Fano la segnalazione l'abbiamo girata l'assessore Fabio Latonelli la quale ci ha fatto sapere di un sopralluogo dei tecnici siamo in attesa di ulteriori informazioni e domani sul lungomare di Fano si apre l'edizione 2021 del Bordetto Fest l'evento dedicato al piatto simbolo della tradizione marinara il taglio del nastro è previsto per le 18.30 sul palco della cavia del Lido alla presenza degli organizzatori e sostenitori della manifestazione ospite d'eccezione sarà Francesco Battistoni sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali insieme a Riccardo Rigillo direttore generale della pesca del Ministero per accedere agli eventi del Festival è obbligatorio il Green Pass e di buon cibo ma anche di sport ne parleremo tra poco subito dopo il telegiornale durante uno speciale condotto da Maria Elena Del Bianco dedicato alla pedalata alla pera angelica un augurio di una buona serata arrivederci e di buon cibo